L'isola c'è una massiccia presenza di Black Tusk, una loro squadra Asmat è sul posto a raccogliere campioni, le implicazioni ovviamente sono tremende, qualunque cosa trovino non dobbiamo fargliela portare via, non escono mai dalle aree di sicurezza del loro complesso, quindi dovremmo... I Black Tusk hanno conquistato il Campidoglio, probabilmente si preparano a una nuova offensiva verso le postazioni alleate nella zona est... Ecco. Ecco. facciamoli a pezzi la facciamoli Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Abbiamo ricevuto un allarme NSA per violazione del perimetro dal National Mall. Spegnilo e metti l'area in sicurezza. Grazie a tutti. 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 Radio nemici a tutti. Grazie 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 a tutti. Radio nemica intercettata. Alpha non risponde. Beta, gamma e delta. Regatevi all'ultima posizione di Alpha. E fate rapporto. La fottuta bioingegneria sta uccidendo il pianeta. Lo so, baby. Hanno condannato il pianeta, inquinato tutto e riempito il mondo di grano GM. L'importante è fare un milione in più. Chi se ne frega se bruciamo tutti. Non devono arrivare a te. Dobbiamo fare qualcosa di concreto. Andiamo all'incontro. Incontro? Sì, te l'ho detto. Quel gruppo su internet si vedono per decidere il da farsi. Non vogliono restarsene con le mani in mano mentre il mondo va in malora. Vogliono cambiare le cose. Parli delle persone che hanno bruciato tutti quegli alberi perché erano ibridi. Non erano affatto ibridi. Erano dei cazzo di mostri. Accesso negato. Cerca un tesserino per superare il controllo di sicurezza. Ascesso negato. Ascesso negato. Aspetto. Accesso consentito. Accesso consentito. Accesso consentito. Scansione. Identificazione NSA. Dion Lawson. Analista. Permessi di sicurezza livello 5. Accesso consentito. Passiamo. 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 Scansione, tesserino impiegato NSA, data manager Saul Burland, permessi di sicurezza livello 7 Dovrebbe darti accesso ai server Andiamo, risparmia quei tre campioni Sì, ma... Senti, guarda che ti do 2000 dollari, dritti in criptovaluta, ok? Mi servono a Los Angeles entro lunedì, capito? Non è così semplice, non posso impacchettare due fiale e spedirle per posta Mettile in una scatola con ghiaccio secco e spediscile col corriere Dalla Russia agli Stati Uniti e la Dogana, se il ghiaccio si scioglie i campioni di H3N6 diventeranno inutilizzabili Non preoccuparti Scansione, identificazione NSA, Joshua Kim, responsabile risorse umane, permessi di sicurezza livello 1 Squadra Beta in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione Squadra Beta in arrivo su ultima posizione Squadra Beta in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione Squadra in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione Squadra in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione Squadra in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione Squadra in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione Squadra in arrivo su ultima posizione nota, Gamma via libera, continuare per lustrazione molto interessante professore la sopravvivenza sul lungo periodo dipende dall'evoluzione in passato bastava un raffreddore a uccidere i più forti sono sopravvissuti e hanno dato vita alla generazione successiva e così via Darwin già ma poi abbiamo fatto un cortocircuito abbiamo sviluppato farmaci per far sopravvivere quelli che dovevano morire e tenuti i debole in piedi per oltre un secolo e allora cosa proponi? eogenetica? tseh, neanche per sogno non dovremmo scegliere noi chi vive e chi muore l'umanità non può prendere simili decisioni la gente troverà sempre il modo di fregare il sistema e approfittarsene di spegularci sopra tipo Big Pharma? esatto un'intera industria planetaria devota a mantenere artificialmente i malati in vita per poterci lucrare sopra più pillole prendi più soldi fanno più persone a popolare questo piccolo ok, vediamo cosa abbiamo qui che abbiamo servito in corso squadra gamma lancio droni al mio segnale il 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 Grazie a tutti. 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 Sistema sospeso. Sistema ripristinato. Grazie a tutti. Colpitevi! 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 Agente ucciso. Colpitevi! 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 Bersaglio! 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 Llegare! Stavolta mi guarderà la testa! Copro da qui! Avete proprio sbagliato! Niente di scuola! Hai messo in sicurezza i dati! Fa lo stesso con l'intero sito! E' finita! E' finita! E' finita di scuola! E' finita di scuola! Non è ancora morto! Oh no! è stato colpito bersaglio ancora vivo è stato colpito Abbiamo un elenco dei dati salvati sui server. Ci sono alcune registrazioni di Amherst. Peccato nessuno l'abbia ritenuto una minaccia credibile. Mi ci vorrà un po' per visionare tutto. Ottimo lavoro. Grazie a tutti. Richiesta di supporto.